Salutiamo anche a Michi D'Avioni che ci riprenderà tutta la manifestazione. Grazie Michi. Michi, dove vai tu? Ci sarò pure io. 18.25.1 Battipaglia. Oggi vogliamo anche il 10. Ma ho detto conti che però è. Eh, ok. Tanto la benzina la mette Francesco con le menti, non c'è problema. Andiamo avanti. Ok, siamo pronti? Ok, via. 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 Ok, via.